maida woman è il profumo che preferisco perché mi rappresenta sa di passeggiata all'aria aperta quando sei baciata dal sole ti senti libera e bella racconta delle donne sarde incantevoli forti e un po misteriose la nota che più l'identifica è quella della peonia sarda o a rosa dei monti come la chiamiamo noi ci sono le note mediterranee del timo e soprattutto del mirto per sottolineare il carattere selvaggio abbiamo usato il muschio e il paciuli e per la dolcezza nascosta in fondo alla corazza la pesca il mughetto e un po di vaniglia maida woman è un profumo intenso ma è al tempo stesso estremamente sensuale